ciao a tutti amici amici benvenuti o bentornati sul canale per un nuovo video allora oggi un get ready with me in cui mettiamo all'azione insieme due novità succosissime che sono tra le mie mani per quanto riguarda il make up le ho acquistate con vari sconti al black friday cyber monday single days eccetera e quindi nulla ve le voglio mostrare in questo video di che cosa sto parlando sto parlando del fondotinta di sciseido la novità del momento che è il revital essence king lo foundation questo ha un fattore di protezione 30 ed è un fondotinta in siero dall'effetto glow luminoso quasi bagnato almeno così dice sciseido io l'ho già provato un paio di volte e mi sono già fatta una mezza idea però oggi lo applichiamo insieme io l'ho preso nella colorazione alder che ha un sottotono golden però ho anche una puntina di sottotono olivastro io sono andata sul sito di safra.com per diciamo capire qual era la colorazione che avrei voluto acquistare e nulla quindi oggi lo mettiamo all'opera ve lo faccio vedere e così magari si può fare anche un paragone con il fondotinta di clarence di cui appunto ho fatto il video applicazione magari ve lo linko se qualcuno se l'è perso a me quello piace tantissimo questo questo anche mi piace oggi lo vediamo in azione e poi lei ho fatto un sondaggio su instagram se volevate vedere in azione questa palette oppure la palette di uda beauty la pretty grunge o pretty grunge non so come si pronuncia allora ha vinto diego dalla palma eccola qui la nuda ice uscita da pochissimo con questi colori freddi bellissimi poi tra l'altro diciamo forse è meglio perché comunque per quanto riguarda la palette di uda ci sono tanti get ready with me la stanno facendo vedere molte molte mie colleghe di youtube questa invece mi sembra di capire che ancora nessuno l'ha mai fatta vedere quindi vi faccio vedere magari qualcosa che non si vede appunto nei video su youtube e nulla poi applicheremo anche questo bellissimo quindi oggi make up dai toni freddi utilizzando appunto la palette di leggo dalla palma e poi utilizzeremo anche questo blush bellissimo che non vedevo che fosse che non vedevo l'ora fosse tra le mie mani ed è il uno dei glo play blush di mac e questa è la colorazione totale sin sed che è un rosa freddo con un sottotono lilla sapete che amo questi colori poi vabbè il viola rosa mi donano particolarmente avendo appunto gli occhi verdi allora per quanto riguarda la palette di leggo dalla palma allora la potete vedere adesso io non vi faccio gli swatch comunque è bellissima quindi tonalità che vanno dal chiaro al medio oscuro fredde ci sono sia dei matt come finish presenta sia dei matt dei saten pearl ed extra pearl quindi questi qui dovrebbero essere secondo me gli extra pearl perché hanno proprio al tatto una texture cremosa magari faccio gli swatch di questi solo che poi aspettate perché devo vedere se ho le salviettine per pulirmi perché altrimenti poi dopo mi devo truccare con le mani tutte sporche allora guardate questo questa proprio questi hanno proprio una texture cremosa anche questo questo grigio poi questo questo verde smeraldo bellissimo poi c'è questo questo è un po farinoso che è questo diciamo beige molto champagne chiarissimo po farinoso dove devo essere sincera quindi questa forse dovrebbe essere la texture pearl e queste le texture extra pearl questo è un saten e perché si vede proprio il rosa e poi questi qui dovrebbero essere i matte quindi di matte ci sono due viola e un uno che questo colore qui che dà un pochettino sull'ottanio ad ogni modo colori bellissimi guardate un po ragazze come sono pigmentati sono veramente molto 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 pigmentati e niente adesso li vediamo all'azione ovviamente sono dei colori un po non lo so ecco se utilizzerai questi colori la mattina per andare al lavoro non lo so però ecco magari durante le feste ci sono delle occasioni e la trovo una palette veramente bellissima e con una gamma cromatica molto bella poi tra l'altro la qualità di diego dalla palma diciamo che è risaputa e quindi diciamo le sue palette hanno un ottimo rapporto qualità prezzo a mio modo di vedere le cose perché sì è vero udabelle le palette di udabelle la denona non so tutti i marchi patnegrano lo so però costano molto di più questa qui è una palettina che io ho acquistato sul sito di sabbioni ho pagato meno di 30 euro per cui insomma con meno di 30 euro vi portate a casa delle palette che hanno un'ottima qualità comunque adesso cominciamo a truccarci insieme perché sono già sei minuti che blatero poi mi vengono i soliti i soliti video lunghissimi ho già diciamo sistemato le sopracciglia ultimamente sto utilizzando da quando l'ho comprata questa matita di nabla la brow divine nella colorazione neptun mi piace moltissimo perché è un tratto molto molto naturale e dura tutto il giorno mi piace poi applicato già il primer che è questo qui sto utilizzando adesso questo no diversi però adesso però per oggi ho utilizzato questo mac prep and prime 24 ore extend e vabbè insomma questo mi ci trovo bene devo dire allora direi che trucchiamo prima gli occhi perché ho paura che magari gli ombretti possono fare fallout e poi dopo andiamo ad applicare il fondotinta e ok andiamo allora prendiamo il pennello da sfumatura cominciamo utilizzerò questi pennelli che avevo acquistato in un set di sephora il gritter qualcosa il set per gli occhi anche se sto ben di aspettando di acquistare i pennelli di refre sto aspettando che riassortiscono un set e poi se li trovo ancora in sconto vorrei provare questi famosissimi pennelli di refre che osannano tutti per vedere appunto se c'è tutta questa differenza io non sono mai stata così diciamo esigente per quanto riguarda i pennelli però ultimamente mi è venuta questa curiosità allora come base seguo i consigli di diego della palma applico come base questo questo ombretto rosa satinato questo rosa satinato freddo posso tutta la palpebra naturalmente lo ripeto anche il rischio di sembrare molto diciamo monotona in quello che dico ma magari ci possono essere sempre delle nuove persone che capitano qui nei video io non sono una makeup artist sono una donna che ha da sempre la passione del makeup chiaramente i makeup che diciamo che questi video ecco servono per quanto mi riguarda più per farvi vedere i prodotti in azione che per insegnarvi tecniche di trucco che dovrei imparare anche io ecco quindi insomma questo ok ho fatto questa piccola base questa base ok per io per l'applicazione degli ombretti successivi poi intensifico con questo sempre con vediamo si sempre con lo stesso pennello intensifico la piega con questo viola ok speriamo di non fare pasticci in diretta e lo piazzo nella piega e sfumo sia di qua che di là cioè sia in un occhio che in un altro chiaramente allora devo dire che i matt comunque questi sono due scusate quello sotto è un saten però comunque si sfuma molto bene questo è un matte si sfumano e si amalgano molto bene poi io ho praticamente appoggiato proprio pochissimo il pennello su sulla cialda perché appunto ho paura di fare macchia perché comunque sono colori abbastanza come posso dire evidenti quindi ho paura magari di fare dei pasticci quindi cerco di andarci piano e sfumo sfumiamo tutto per bene ok allora adesso intensifichiamo l'angolo esterno con un colore allora pensavo intanto di come colori protagonista utilizzare i verdi perché vabbè alla fine poi di shimmer diciamo questa texture extra pearl abbiamo questo verde smeraldo questo verde acqua e questo grigio e questo champagne vorrei utilizzare questi due verdi perché mi sembrano i colori più interessanti di questa palette almeno a mio modo di vedere le cose e quindi insomma faremo un trucco sui toni del verde ok quindi adesso che cosa faccio intensifico l'angolo esterno con questo viola più scuro o con questo nero no facciamo con questo nero no facciamo no facciamo questo viola scuro va vabbè vediamo piazzo un po' di colore qui uno dovrebbe fare prima un occhio poi un altro mi sono sporcata speriamo di no perché comunque sono colori che bisogna fare un po' attenzione non perché per il discorso della qualità chiaramente che sono colori scuri quindi bisogna un attimino farci attenzione e saperci anche un po' fare ok quindi non ne metto tanto poi riprendo il pennello di prima e sfumo tutto vediamo cosa ne esce fuori ok portando anche il colore un po' di colore un po' nella piega io faccio sempre così più o meno ok poi prendo il pennellino un pennellino no scusate sempre con lo stesso pennellino porto anche un po' di questo colore sotto sporco un po' sotto ok ok qui forse mi sono un po' sporcata vediamo vediamo qui cosa ne esce fuori risfumiamo un po' meglio i bordi qui sopra sì diciamo che sono non sono colori secondo me che si possono utilizzare la mattina cioè non sono trucchi che possono essere fatti per quanto mi riguarda la mattina in velocità cioè qui magari bisogna prestarci un pochettino di attenzione per cui magari sono quei trucchi da fare quando si ha un pochettino più di tempo per un discorso proprio di colorazioni che sono piuttosto scure quindi tendono diciamo bisogna avere un po' di pazienza ad applicarli ok a questo punto applichiamo il colore protagonista al centro della palpebra questo qui e vediamo un po' che cosa ne esce fuori bellissimo comunque ragazze guardate che roba wow comunque è super pigmentato sottile bello certo come dicevo non lo so se mi truccherei così per un trucco da tutti i giorni però molto bello ok non direi che non ne applico di più perché insomma già ne è tanto e poi applico questo qui un pochettino più nella parte interna e cercando di fare diciamo un lavoro un po' di fare un un po' una gradazione non so come spiegare insomma allora aspettate un attimo che mi devo pulire qua ok allora io trovo che questi colori sono bellissimi per il verde questo queste tonalità di verde non sono proprio quelle che più mi si addicono sugli occhi perché io avendo gli occhi verdi ma io ho gli occhi verdi di un altro verde per cui un po' sbattono però vabbè comunque io questi questi colori secondo me io li vedo anche molto adatti perché ha gli occhi castani e va bene comunque proviamo ad applicare questo applichiamo questo guardate ragazze che roba ci vado anche un po' sopra all'altro sì ok qui ha fatto un po' di fallout ok poi riprendo un attimo il pennello da sfumatura si stava un attimo ok poi facciamo col nero visto che non l'avevamo utilizzato facciamo diciamo simuliamo la riga di eyeliner con il nero questo qui io in genere sapete che io metto sempre la mattita negli occhi sopra diciamo a modi eyeliner sugli occhi e anche sotto questo giro utilizzeremo l'ombretto direttamente vediamo ok qui c'è un po' di fallout che dopo adesso mi devo andare a pulire bellissimi però cioè gli ombretti sono stupendi ecco come vi dicevo non lo so dove ci vado dove ci vado così però insomma gli ombretti sono stupendi magari a qualche cena natalizia ecco bellissimo va bene direi che può andare anche se il trucco ragazze sapete non è perfetto perché come vi dicevo non sono una makeup artist e ok 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 allora adesso truccati gli occhi poi magari vediamo se c'è qualcosa da sistemare utilizziamo il fondotinta di sciseido allora ne faccio un paio di pump e lo applico con questo pennello di jessup che strato è il pennello appunto che sto utilizzando la mattina ok ne metto un po' di qua un po' di là all'inizio pensavo che questo colore fosse troppo chiaro per il mio incarnato in realtà no perché si fonde benissimo con la pelle col colore ha un effetto luminoso come potete vedere ma io non lo trovo luminoso cioè nel senso non lo trovo bagnato luminosa è luminoso ma aspettate che poi chiaramente vi si deve settare così magari aspettate che qua ho fatto un casino che mi aveva fatto con l'auto l'ombretto ok io non ci metto neanche la cipria cioè non ci non ci applico neanche la cipria e devo dire mi trovo bene ha una buona durata nel corso della giornata tiene abbastanza bene insomma mi piace dai è il fondotinta più discusso del momento ecco io non lo trovo quello che posso dire è che non lo trovo più luminoso rispetto a tanti altri che ci sono in commercio tipo anche quello di quello di Clarence hanno sempre rispetto a quello di Clarence ha una texture diversa che questa è più cremosa e dà una sensazione più di unto nel momento in cui si applica sul viso dopodiché però si asciuga mentre quello di Clarence dà una sensazione più di unto al tatto poi però sul viso anche quello si asciuga ecco non so se mi sono spiegata comunque vedete ha una leggera coprenza però non leggerissima perché il mio il mio famosissimo neo rosso che qui un po' lo ha coperto ad ogni modo quindi io ne ho fatto alla fine tre pump l'ho stratificato quindi si può stratificare uniforma bene l'incarnato da questo bello aspetto luminoso diciamo leggero luminoso all'incarnato poi valutate voi potete andare come ve l'ho linkato prima il video a vedere la differenza con quello di Clarence che comunque io trovo bellissimo non se lo caga nessuno ma io trovo bellissimo ok poi mettiamo un po' di copriocchiaie come copriocchiaie sempre scisseido questo l'ho ritirato fuori lo sto utilizzando è il mio correttore preferito in assoluto da un bel po' forse da non so se da un annetto lo rifaccio vedere perché ci sono delle nuove iscritte che non mi conoscono devo dire che da quando ho acquistato questo non ho più voglia di andare a cercare correttore in giro prima era la perenne ricerca del correttore perfetto adesso l'ho trovato questo è perfetto per me in inverno quando ha questo colorito perché è sottili io l'ho comprato da Sephora un giorno quando era andata lì volevo acquistare il correttore di Uda la commessa mi ha detto guardi signora lasci stare Uda le faccio vedere io un correttore ancora più sottile coprente e mi ha venduto questo e devo dire me lo ha provato e sono rimasta colpita e quindi poi dopo l'ho acquistato mettiamolo un po' qua un po' qua sfumiamo con questa spugnetta speriamo di non far casini qua con questo trucco un po' come si dice abbastanza colorato ecco bello comunque ragazzi ho dimenticato la matita vado a prenderla metto una matita nera magari dentro gli occhi e arrivo aspettate eccomi ragazzi allora ho applicato la matita che è la è la matita di Natasha Denona la crayon qualcosa mi piace l'ho già detto tante volte su Instagram però io non la trovo non trovo giustificato il prezzo che nel senso che le matite di Diego Dalla Palma le Stay On Me oppure le Nabla valgono altrettanto secondo me sono di più e costano molto meno per cui insomma ok l'ho applicata nella rima interna degli occhi scusate oggi è domenica sono un po' cioè mi sono appena svegliata da poco non è che sia proprio così diciamo sveglia e pimpante poi finiamo il viso poi applico il mascara off camera perché ragazze quando applico il mascara faccio sempre una marea di casini per cui lo farò off camera poi riprendiamo e allora utilizzerò utilizziamo questo contour questo stick contour di Diego Dalla Palma che da quando l'ho comprato ragazze non riesco a usare nient'altro per fare un po' di soft contouring questo è il numero 51 io l'ho acquistato sul sito di Sensation Profumerie ha questa colorazione fredda molto adatta appunto aspetta ve lo faccio vedere applicato così così capite ha una texture bellissima secondo me mettiamo un po' qua un po' qua e sfumiamo così guardate se è sfumato in un secondo guardate che bello poi sempre il solito discorso che i prodotti cioè nel senso quello che rende in telecamera non è proprio identico da quello che io vedo in questo momento se mi guardo allo specchio sotto allo specchio ok però vedete che bell'effetto che dà no io lo adoro lo adoro questo stick di Diego Dalla Palma guardate guardate oh vabbè bellissimo ne ho comprati altri di diciamo di questo genere di prodotti in crema ma questo batte tutti proprio adesso non è che a me Diego Dalla Palma mi paga anzi l'ho detto più una volta che mi è sempre stato abbastanza antipatico a lui come persona però i suoi prodotti sono fantastici poi tra l'altro adesso molti di voi lo sanno e lo so anch'io lui ha venduto la sua azienda per cui si chiama ancora Diego Dalla Palma ma non è più lui ok sfumiamo cerchiamo di sfumare il meglio possibile ok e poi che cosa applichiamo applichiamo il bellissimo blush di MAC l'ho preso il pennello per il blush porca miseria ragazzi si l'ho preso per fortuna perché mi sposto qui in cucina perché lì di là ho la spostazione trucco make up che vi avevo fatto vedere che sarebbe meglio sinceramente fare i video lì però ho pochissimo spazio sulla scrivania ho la casa piccola e quindi questo è va bene proviamo ad applicare questo questi sono questi blush con questa texture bouncy vabbè li conoscerete molte bellissimo così bello questo blush mi piace poi metterò poi il mascara e sulle labbra metterò questo gloss perché ragazzi guardate gli occhi come sono già belli truccati metterò questo gloss di smashbox che avevo acquistato una volta che ero andata da douglas nei cestoni ed è questa colorazione che si chiama non ci vedo purtroppo qui non ho gli occhiali comunque vabbè è questo gloss color lavanda ovviamente sulle labbra poi dobbiamo vedere come risulta bello sapete che amo questo genere di colori diciamo oggi ecco un trucco abbastanza come posso dire ecco non da tutti i giorni io non mi non mi truccherai così per andare in ufficio molto però allora questo gloss è molto confortevole sulle labbra devo dire colorazione stupenda a chi piacciono questo genere di colorazioni a me piacciono come sapete basta direi sono già super truccata così sto facendo del casino e metto il mascara torno applicherò applico un po' di questo qui il fix plus non è il fix plus scusate il fix make up di clarence io mi ci trovo benissimo e poi magari facciamo le valutazioni finali quindi adesso mi assento un attimo e applico il mascara off camera eccomi ragazze allora ho applicato il mascara il mascara ho applicato questo qua di lancome il mio preferito uno dei miei preferiti in assoluto l'hypnose drama è buonissimo soprattutto al di là dell'effetto dura tantissimo ce l'avrò almeno da sei mesi e la formula è intatta perfettamente l'ho già detta su instagram questa cosa e anche se ho comprato anche quello di kynik nella colorazione deep brown molto buono mi piace moltissimo però oggi volevo applicare un mascara nero con questo trucco non un mascara marrone niente ragazze il trucco e gli ombretti sono bellissimi stupendi certo è un make up questo un po' fuori dalla mia comfort zone devo essere sincera nonostante questi siano colori freddi però questi verdi sono veramente molto come posso dire molto molto verdi ecco non sono dei verdi oliva insomma sono proprio dei verdi veramente molto brillanti ecco quindi fuori dalla mia comfort zone però devo dire che è venuto fuori comunque un make up splendido gli ombretti si sfumano benissimo i matt anche gli shimmer sono comunque semplici da applicare bisogna applicarli poco alla volta perché sono veramente molto 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 pigmentati comunque la palette è stupenda per delle ragazze donne che sono bionde per esempio con gli occhi azzurri ama anche castane cioè proprio bellissima palette di diego dalla palma per quanto riguarda il fondotinta bello ha un bel effetto luminoso nel corso della giornata a me non si lucida ma sapete che comunque chi mi segue da tempo lo sa che comunque io non ho una pelle grassa che tende a lucidarsi mi ci trovo bene però se devo essere sincera tra i due io preferisco il clarence proprio come effetto preferisco il clarence sulla mia pelle voi fatemi sapere che cosa ne pensate e nulla spero di avervi tenuto compagnia con questo video soprattutto appunto il mio intento era farvi vedere in azione questa bellissima palette di diogo dalla palma e il fondotinta di Shiseido nulla e vi aspetto nei commenti se vi va e noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutte ah e poi ragazze questo gloss è bellissimo secondo me e dicevo perché mi perdo sempre nei meandi dei miei discorsi vi aspetto nei commenti se vi va e noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutte a tutti ciao a tutti